Onorevole, perché siete qui a manifestare davanti al Palazzo della Consulta? Perché vogliamo tutelare i lavoratori, i diritti dei pensionati e vogliamo dimostrare che la democrazia in Italia non deve essere rubata a tutti i cittadini. Perché la legge Fornero va cancellata? Ma va cancellata perché ha tolto più la serenità e la tranquillità a tanti cittadini e ha dato a tanti cittadini solo problemi e purtroppo miseria.